Alfonso Signorini, attento osservatore del mondo televisivo, concentra la sua attenzione sul futuro cast del Grande Fratello, con uno sguardo particolare verso i protagonisti di Temptation Island, il reality carico di emozioni e dinamiche relazionali condotto da Filippo Bisciglia. Le speculazioni su possibili concorrenti provenienti dall'attuale edizione di Temptation Island stanno alimentando l'interesse degli spettatori. Il fenomeno, Temptation Island, nel mondo del Grande Fratello. Nel calderone televisivo del Grande Fratello si prospetta l'arrivo di volti noti dell'attuale stagione di Temptation Island, personaggi che hanno colpito il pubblico con le loro storie e dinamiche emotive. Lino e Alessia, protagonisti indiscussi dell'edizione in corso, sono tra i nomi più gettonati per un possibile approdo nel reality show. Le indiscrezioni e le speculazioni di Amedeo Venza Amedeo Venza, non nuovo a colpi di scena e scoop sul mondo del piccolo schermo, ha alimentato i rumors affermando che il Grande Fratello abbia messo gli occhi su alcuni concorrenti di Temptation Island. L'attesa per le prossime fasi di Temptation Island, che ritorneranno in TV anche a settembre, si unisce all'agitazione per il prossimo Grande Fratello. Le ipotesi sul cast e le speculazioni su possibili partecipanti. Diverse voci circolano riguardo ai potenziali concorrenti che popoleranno la casa del Grande Fratello 2024. Da Cristina Plevani a Brando e Fricchian, da Paola Barale a Sara Croce, i nomi dei possibili partecipanti si moltiplicano, creando un clima di attesa e curiosità. L'incognita sul cast dell'edizione futura lascia spazio a ipotesi e supposizioni, con la certezza che la selezione sarà un mix equilibrato tra VIP e volti nuovi, seguendo il modello vincente della passata edizione.